Eh sì, usate il vostro pennello per immortalare mia moglie. Come vanno gli affari? Siete voi quello in affari, signore. Certo. La nostra Repubblica Olandese è la nazione più ricca della terra. Domanda e offerta. È così che funziona. La bocca. Grani di pepe o ritratti, noce moscata, cannella, chiodi di garofano, porcellana cinese, tutti più affidabili dei bulbi di tulipano. Ma naturalmente il mio investimento migliore è stata la mia Sofia. Cornelis, come potete?